Per Prato è una grande opportunità perché il 5G permette di erogare una serie di servizi digitali innovativi che fanno riferimento alla realtà virtuale, realtà aumentata, piuttosto che all'automazione, all'internet delle cose e tutto ciò contribuisce a migliorare sensibilmente i processi produttivi, a renderli molto più efficaci. Pensiamo ad esempio alla possibilità di fare delle operazioni manuali in modalità automatizzata con la possibilità di fare degli interventi coaduivati dalla tecnologia, quindi interventi sia di manutenzione predittiva che manutenzione correttiva degli impianti che si trovano nelle aziende. Tutto ciò contribuisce a migliorare la sostenibilità dell'ecosistema e quindi a contribuire all'aumento di produttività e quindi generare nuovi beni e servizi. Il poter visualizzare attraverso il PC quello che è l'avanzamento della produzione ci consentirebbe di risparmiare tempi e soprattutto ci darebbe delle informazioni reali necessarie per il lavoro di tutti. I nostri clienti e tutto il mondo viaggia a un'altra velocità, noi siamo un distretto manifatturiero ancora un pochino vecchio stile e questa è un'occasione grandissima per arrivare a ragionare, a parlare sulle stesse frequenze d'onda dei nostri clienti. Potremmo avere un canale sempre aperto per quanto riguarda il videocontrollo dei macchinari, degli impianti produttivi in modo da avere sempre sotto controllo ciò che succede in azienda. Come imprenditore credo, ribadisco con tutta la mia forza e come pretese che se riuscissimo a parlare, dialogare, condividere e promuovere il nostro prodotto in filiera veramente anche in una competizione così forte avremmo poca poche rivale.